Qualche giorno fa, nella sala operativa della Questura, è pervenuta la chiamata di una donna, la quale, con respiro affannoso e in evidente stato di agitazione, minacciava di suicidarsi. Il poliziotto in servizio, resosi conto della situazione, ha sin da subito cercato di tranquillizzare l'interlocutrice, chiedendole se si trovasse in casa da sola e se con lei vi fossero minori. La gente, assicuratosi che non vi fossero altre persone esposte a potenziale pericolo, nel tentativo di distogliere la donna dei suoi indenti autolesionisti, ha instaurato con la stessa un dialogo, chiedendole motivi del suo malessere e ottenendo l'indirizzo di casa. L'interlocutrice, in quei concitati minuti, ha più volte tentato di interrompere la comunicazione telefonica, riferendo di compiere un gesto estremo, ma il poliziotto ha continuato ad attirare la sua attenzione con qualsiasi tipo di espediente, tenendola impegnata al telefono, per consentire all'equipaggio di una volante di arrivare nell'abitazione. Anche quando gli agenti della volante sono giunti dietro la porta dell'appartamento della donna, il poliziotto l'ha convinta ad aprirla, per consentire ai propri colleghi di entrare in casa. Una volta dentro l'appartamento, i poliziotti della volante, adottando tutte le cautele del caso e con non poca fatica, sono riusciti a disarmare la donna, che brandiva un grosso coltello minacciando di procurarsi lesioni. Dopo averla messa in sicurezza e ulteriormente rassicurata, gli agenti hanno affidato la paziente alle cure del 118, giunto nel frattempo sul posto.